Diversamente dalle indiscrezioni circolate fino poco fa, Fedez sarà ospite del programma di Alessandro Cattelan previsto in prima serata su Rai 2. Secondo quanto apprende la DN Kronos, il rapper, dunque, parteciperà alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, in onda lunedì 20 maggio. Era stata lanciata ieri la notizia da Davide Maggio.it secondo cui, inizialmente, il rapper doveva essere uno degli ospiti di punta del programma, ma a far saltare tutto, da quanto si leggeva sul sito, sarebbe stato il presunto coinvolgimento dell'artista nell'ambito dell'indagine relativa al pestaggio di Cristiano Jovino. Fedez, in occasione del Salone del Libro di Torino, ha smentito di essere coinvolto nella vicenda, ma la sua iscrizione nel registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso, pare abbia portato alla decisione della produzione di escluderlo dal programma. Questo quello che ieri era stato detto, ma ora arriva la smentita.